Che arriva da Messina, che si chiama Giorgio Como. È giusto? Applauso! Ciao. Io mi collego al pezzo di prima, io ho scoperto di essere vecchio. Come tutti i vecchi ho paura di morire, allora siccome si dice che sono sempre migliori che se ne vanno, ho deciso di essere una merda. E finora sta funzionando, devo dire. Ma andiamo con ordine. Come ho fatto a scoprirlo? Tramite le pubblicità in televisione. Cioè voi pensate che la pubblicità è messa lì per fare guadagnare gli sponsor, in realtà sono messe per farci prendere consapevolezza di noi stessi. Cioè quando sei bambino, cosa guardi? I cartoni animati ti mettono pubblicità, dei giocattoli, delle cose di scuola. Poi man mano che cresci la pubblicità ti segue. Ecco, io nei programmi che guardo adesso in televisione, la pubblicità è chigimea colon irritabile, prostamol, adesivi per dentiere, fai un lascito testamentario a una onlus, iscriviti a registro italiano cremazioni. Oltre alle pubblicità, Mediaset ha deciso di aiutarmi usando il suo uomo di punta, quello che io considero un po' il rappresentante di Berlusconi in terra, cioè Giorgio Mastrotta. Quando io ero bambino, cominciavano ragazzino, cominciavano a piacermi le donne, Giorgio Mastrotta portava in televisione la moglie Natalia Estrada, una donna bellissima. Ecco, per chi avesse meno di 40 anni, Natalia Estrada era tipo Belen, però simpatica. Poi crescevo, allora imparavo a cucinare, allora Mastrotta mi vendeva le pentole, le padelle, poi venne solo andalo di casa, lui vendeva i materassi, i cuscini, quelle cose lì. Ecco, che te le vendite fa adesso Giorgio Mastrotta? Le poltrone colorate per gli anziani. Quelle poltrone con un solo pulsante, perché a noi anziani le cose complicate non piacciono, tu ti siedi, quando vuoi alzarti, schiacci il pulsante, ti solleva quei 4 centimetri, così puoi alzarti più facilmente. Oltre alle televendite e alla pubblicità, Mediaset ci aiuta anche con i telegiornali, soprattutto d'estate, Studio Aperto ci ricorda, noi anziani, di bere molto e di non uscire nelle ore calde. Ora, io dico, signor Studio Aperto, allora, noi anziani andiamo in bagno ogni 5 minuti, quindi farci bere tanto non è una grande idea. Riguardo all'uscire nelle ore calde, non è un problema, perché noi anziani, anche se dobbiamo fare 10 metri, prendiamo l'autobus. Perché prendiamo l'autobus? Perché si alzano per farci sedere. Se non lo fanno, abbiamo le nostre tecniche. La prima è, come salgo sull'autobus? Allora, fingo di non stare bene, mi arrampico, magari ho un bastone, no? così qualcuno mi fa sedere. Se non funziona, allora andiamo a cercare un po' le nostre prede. La prima sono i giovani. Quando io ero giovane, mi alzavo e facevo sedere gli anziani. Cazzo, adesso tocca a me. Allora cerco il più giovane nell'autobus, mi metto vicino e lo infastidisco. Tossisco, sputo per terra, scorreggio, cioè, le cose che facciamo noi anziani, insomma, no? Finché questo non ne può più, si alza e mi fa sedere. L'altra mia vittima preferita sono le coppie. Io ho osservato, visto che nelle coppie c'è sempre uno dei due che è più, diciamo, innamorato dell'altro. Allora, quando è la donna, essere più invaghita, cosa fa? Mi lascia il posto per avere la scusa di sedersi addosso al compagno. Quando è l'uomo, invece, cosa fa? Si alza, fa il galante e ti dà il posto, no? Cioè, chi non rinuncerebbe a un posto sull'autobus in cambio di una scopata? Comunque, adesso che ho scoperto di essere vecchio, ho deciso di dedicarmi a quella che è l'attività principale di noi anziani. Cioè, rompere il cazzo. A noi anziani piace molto parlare, noi parliamo sempre. Per esempio, è il posto preferito al supermercato. Noi cerchiamo sempre di parlare con la cassiera, paghiamo quei centesimi, raccontiamo la nostra vita, no? Così si crea quella bella fila lunga. Ovviamente, andiamo solo negli orari di punta. La sera, quando è pausa pranzo, no? È tutto studiato. Poi, ci piace parlare al telefono. Quindi, quando ti chiama la Vodafone, per esempio, per farti cambiare operatore, è una gioia. Le racconti di tutto, finché loro ti dicono, guardi, rimanga col suo operatore e riattaccano. Anche di persona, quando vengono, sapete, le truffe a noi anziani, con la scusa di cambiarti il contatore, queste cose qua, tu ti attacchi a parlare, eccetera, finché questi non se ne vanno e evitano di truffarti. perché i giovani, diciamocelo, non sono più come una volta. Però anche noi ci sentivamo inferiori a quelli precedenti. Cioè, io, per esempio, non so, mio nonno, alla mia età, aveva già fatto due guerre mondiali. Mio padre, alla mia età, aveva già fatto due figli. Io, alla mia età, io alla mia età, ho due cellulari. Però, anche vero che, sì, mio nonno ha fatto due guerre mondiali, però una l'ha persa, quindi non è che si sia sbattuto tanto. Mio padre, mio padre ha fatto due figli, ma uno sono io, quindi non è che, insomma, ci voglio dire. Poi, oltre che dei giovani, noi anziani ce l'abbiamo con gli immigrati e con i politici. Secondo noi anziati, gli immigrati sono tanti, sono troppi, costano tanto e tutti quanti rubano. Ma secondo noi anziani, i politici sono tanti, costano tanto e tutti quanti rubano. Allora dico io, prendiamo gli immigrati e li mettiamo in Parlamento, così dimezziamo i costi. Comunque, un momento serio, in realtà, io ho un rammarico che non ho avuto figli e secondo me è una cosa bellissima andare in vacanza con i bambini che rompono i coglioni a tutti. È bellissimo, no? Perché c'è chi ha figli non va mai in vacanza in macchina. Cioè, loro vanno sempre in autobus, in treno, in aereo, per dare fastidio anche agli altri. Cioè, dicono che me ne devo sopportare solo io. Mi hanno fatto notare che in realtà, nonostante anziano, potrei ancora avere dei figli. il punto è che sono single, ormai non cerco più una finanzata, sto cercando direttamente una badante, cioè una che pulisce, lava, stila, prima era la moglie, adesso si chiama badante, mi hanno detto. Non l'ho ancora trovata perché sono molto esigente, devo dire, perché, insomma, non lo direste, ma io sono, ho una grande qualità, sono portatore sano di pensione di reversibilità. Quindi, spiego come funziona, cioè, se la badante figa, poi mi sposa, quando morirò, prenderà metà della pensione che prendo adesso. Metà. Quindi non le conviene uccidermi. Poi, se proprio volesse uccidermi, visto che noi anziani soffriamo tutti di cuore, io suggerisco di sfinirmi di sesso. Comunque, io mi sono già iscritto all'ufficio italiano cremazioni, quindi, insomma, sto a posto. Adesso vi devo lasciare perché devo andare in bagno, però, ecco, ci tenevo a dire che comunque almeno una cosa, un obiettivo nella vita loro ha aggiunto, non sono morto giovane. Grazie. Giorgio Como, prendi l'applauso. Vai, davanti, prendi l'applauso. Davanti. Grazie. Ok, stop. Adesso solo i parenti di Giorgio, per favore. Giorgio, dove cazzo sono? Sono a Messina. A Messina, vedi? Grazie. Grazie. Grazie.